3D Forte 80 è il telefono cellulare da lavoro, resistente, semplice da utilizzare e con funzionalità unica nel suo genere. Con funzione SOS integrata, attivabile velocemente tramite tasto dedicato, permette di inserire fino a 5 numeri da chiamare in caso di emergenza. Il tasto SMS, inoltre, permette l'invio automatico del testo di emergenza ai 5 numeri memorizzati. È dotato di display LCD da 2 pollici a colori con calendario. Sveglia, calcolatrice, Bluetooth, memoria espandibile e torcia con doppio LED per una maggiore illuminazione. Inoltre, è dotato di batteria litio di lunga durata. La funzione Magnify permette di utilizzare Forte 80 come una potente lente di ingrandimento. Pratico e antiurto, Forte 80 ha anche un lettore multimediale di file audio e video ed ha una memoria interna con possibilità di memorizzare fino a 300 numeri in rubrica e 100 SMS. Buon lavoro, con Forte 80 a 3D!